Dov'è cosa Spiti? Non chiedermi dove è cosa, parlo del registratore Noi non abbiamo un registratore Spiti E non dirmi noi non abbiamo un registratore Spiti Ma è verità? Del registratore che ce l'ho lasciato? Va bene, fatemi il posto, voglio entrare Benvenuto a bordo, caro Spiti Sei appena salito su una madre della compagnia La forza del mio animazione E la nostra unica destinazione è l'avventura fantastica Dimmi dove vuoi andare No, no, non preoccupatevi di me Sono qui solo come osservatore Spiti, vedo che tu capisci Non puoi semplicemente aspettare Non è in questo modo che funziona la scatola Serve, la forza dell'immaginazione Eh, va bene, ho capito Allora andiamo su l'isola del diretta Poi voglio occupare un po' di caposso La scatola del diretta della luna Ma quanti po' che cosa portare a guardare Se non tentiamo subito Spiti si parte l'isola del diretta La bordo E' proprio per questo La scatola del diretta della luna